Il contratto di quartiere a Sansepolcro è finalmente una realtà. Lo scoglio sul quale si era arenata la precedente amministrazione è stato ora finalmente superato. Ma cosa cambia tra il progetto approvato dal Ministero delle Infrastrutture e quello che invece era stato previsto negli anni passati dalla Giunta Ugolini? L'unica modifica essenziale è stato lo spostamento dell'edilizia residenziale pubblica dal ex convento di Santa Chiara, attualmente sede della scuola, all'ex manifattura tabacchi, in parte di ex manifattura tabacchi. Per cui l'unica modifica è stata questa. Possono essere previsti dei tempi di realizzazione del contratto di quartiere? Sì, diciamo che da ieri scattano due tipi di procedure, una finanziaria e amministrativa, che consiste nel fatto che entro 60 giorni questo contratto verrà registrato dalla Corte dei Conti, dopodiché partiranno il pagamento del primo 10% come a conto, mentre il resto sarà versato nelle casse del Comune a stati di avanzamento. E sempre da ieri, entro 120 giorni, dovranno i progettisti incaricati redare i progetti esecutivi, per cui sono quattro mesi, andremo a fine estate grosso modo, e da settembre-ottobre potremmo, con i capitolati alla mano, mettere in gara le singole opere. Sono ben 10 milioni di euro che giungeranno a Sansepolcro per rilanciare il quartiere di Porta Romana. Ha questa cifra già di per sé considerevole. Se si tiene in conto che alla vicina città di Castello ne sono stati assegnati solo 6 milioni, vanno poi aggiunti altri investimenti che giungeranno da parte di privati. Ma dunque, noi adesso abbiamo parlato di questi 10 milioni di euro che sono fondi che lo Stato dà completamente a fondo perduto. E sono già degli interventi in atto, tipo nell'ex convento di Santa Marta, con dei fondi anche dei privati, della Curia, perché il progetto che deve realizzare la Curia è molto più importante, anche a livello economico, di quello che poi sarà il finanziamento statale, per cui già lì qualche milioncino in più verrà e sarà speso. Poi dobbiamo essere sicuramente certi del fatto che nell'ex manufattura tabacca, anche Fintecna, dovrà o direttamente o indirettamente realizzare quella serie di appartamenti, per cui anche lì qualche altro milione, diciamo che attualmente potremmo dire che gli interventi programmabili e programmati potranno essere intorno ai 20 milioni di euro. Poi vediamo gli atti eventualmente proprietari, ma sono interventi comunque di interesse qualcuno, tipo la caserma della polizia, interesse pubblico, mentre altri sono interventi di interesse privato.